eeeh allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale siamo sull'account di davide013 il quale ci permette oggi di rollare 34.579 gemme ma ragazzi queste qui non sono gemme normali come quelle che rolliamo sempre queste qui sono gemme tutte risparmiate come vedete questo ragazzo non ha mai shoppato ha fatto soltanto qualche pubblicità è davvero è qualcosa di fantastico e quindi oggi davvero pieno di speranze voglio cercare i migliori eroi per questo ragazzo che wow ha risparmiato davvero un sacco un sacco un sacco per farsi rollare da me quindi spero davvero di non deludere le sue aspettative abbiamo 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 16 slot sedizi abbiamo ben 16 slot una carta eeeh vabbè dai quante cose hai una carta ma quante roba hai mamma mia no vabbè c'è guarda lì 4 cartero e speciale 12 cartero e leggendario 2 aggiornata lento livello 5 wow ma che wow complimenti complimenti vivissimi hai risparmiato davvero tantissimo quindi questo video sarà abbastanza lungo perché tu ci hai messo tanto tempo a risparmiare io voglio dedicarti tutto il tempo che meriti quindi direi che andremo a cercare ragazzi sono artica al primo posto perché ogni 2000 gemme spese potremo aprire un forziere quindi alla fine avremo ben 17 forzieri da aprire e ragazzi spero di trovare gli artica cerchiamo inoltre golem barba bianca vediamo un po' c'erano sicuramente altri eroi valentina ora non ricordo bene la lista perché non la ricordo bene quindi wow ragazzi wow abbiamo di tutto abbiamo di tutto lui mi ha detto di cercare prima gli eroi e poi se troviamo gli eroi i talenti quindi sicuramente la scelta più conveniente da fare è quella di utilizzare prima le carte prima però voglio chiedere conferma quindi quindi ragazzi davvero mi sono commosso e questo video lo voglio rendere speciale voglio voglio davvero rendere questo video particolare quindi si ho messo anche il mio bel faccione sono sexy sono tanto sexy sappiatelo cominciamo con la prima carta ero leggendario apri 10 oddio posso aprire 10 carte ero leggendario insieme non penso non penso mi capiterà mai una cosa simile quindi si si va bene apro 10 carte ero leggendario insieme 2 paladini ninja un campione allora ok con calma i doppioni vengono messi in stack quindi anche se ne fa vedere 7 sono in realtà 10 abbiamo trovato 2 paladini 2 dei del tuono 2 Godzilla di neve un ninja un campione un druido un faraone ne abbiamo altre 2 vediamo cos'esce Zuccubi e Dukazucca ragazzi ottimo 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 ok non abbiamo trovato per ora nessuno di quelli che ci servivano già che ci siamo apriamo anche le carte eroe speciale tutte e quattro insieme boom ok 2 succubi un campione un metitore quindi abbiamo già delle slot occupate dagli eroidi in alto abbiamo si c'è qui qui ah ok il paladino e quindi cominciamo cominciamo con le nostre rollate vediamo chi ci esce davvero davvero voglio che escano gli eroi leggendari quindi subito vorrei una rollata da 3 con il golem e barba bianca no non è decisamente golem e barba bianca continuiamo no no oh ok si sono moltiplicati i campioni gelatinosi forza no da 1 driade linfa di cristallo da 3 no ok da 1 ricantropo quindi vediamo un po' chi sta alzando le skill perché 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 andremo a continuare ad alzare la skill a chi appunto stai portando su no no wow a 9 complimenti questi si che sono free to play stai alzando Dracula quindi ta 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 no questi sono quelli sbagliati sta utilizzando quelli sbagliati meno male che me ne sono accorto ok allora facciamo così le melme verdi te le uso su Dracula così abbiamo una slot in più quelle blu magari no perché continuo a arrollarli e per il resto vediamo cos'altro ci esce abbiamo bisogno davvero tantissimo di degli eroi quindi continuiamo non vorrei continuare in questo modo vorrei continuare oh 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 un altro duca zucca fantastico wow fantastico continuiamo questo è buono per la seconda evoluzione vediamo un po' quanti duca cioè l'hai già evoluto il duca zucca mi pare quanti ne hai vediamo un po' non ce l'hai evoluto oh mio oddio non è il duca zucca evoluto quindi scusa fammi vedere ok cioè ne abbiamo già uno per l'evoluzione e in più ne oddio oddio davvero ragazzi sono troppo felice mi viene da piangere in questo video mi sto commovendo continuiamo no non continuiamo scusa mi dispiace dopodiché facciamo una bella rollata da tre così non così da uno da uno da uno da tre no decisamente no riproviamo oh il faraone ok non è però il golem non è chi stiamo cercando neanche l'angelo credo sia chi stiamo cercando no decisamente no mi prendi per il culo cioè mi stai dando i verdi a manetta guarda che se arrivo sulle 15.000 gemme senza aver trovato nulla cominciamo con i talenti oddio 15.000 no forse 10.000 però non mi sfidare forza fammi uscire ho bisogno di golem e barba bianca principalmente se trovo il golem è già perfetto perché dove sto toccando perché il golem è l'eroe perfetto cioè l'eroe perfetto è l'eroe più utile in questa squadra dai dammi il golem no golem 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 ok ora non guardo occhi chiusi golem uh paladino che merda golem golem predone golem da uno da uno da uno dai 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 dammi sto golem dammi sto golem dammi sto golem dammelo non mi escono i leggendari ragazzi che fine hanno fatto ok fermo 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 magari meglio perderci un po' di tempo in più piuttosto che andare ma sbaglio sempre diciamo piuttosto che andare a magari sacrificare no questo no tutte le gemme che ha raccimolato in tanto tempo preferisco aspettare che escano più leggendari per questo ragazzo preferisco prendere il tempo che si merita perché davvero ha fatto un lavoro enorme ha fatto 34.000 gemme 34.000 gemme sono sono tantissime ragazzi sono davvero tantissime è la seconda volta che mi capita che qualcuno risparmi così tanto anzi la prima volta se non sbaglio anche di meno è davvero è qualcosa che ogni volta mi commuove quando gli ho chiesto posso usare le carte eroe leggendario perché non me le dette mi ha risposto con una tranquillità mi ha detto sì vai tranquillo cioè davvero è qualcosa di commovente forza ho bisogno di trovare eroi leggendari dai è la stessa identica rollata due volte facciamo qualche rollata da uno da uno da uno ok ora continuo senza guardare il roll per un occhio chiuso così lo vedo vedrò soltanto se è viola o se è di un altro colore blu ok blu non vedevo più niente druido ok sciamano roll da tre tecnico forza no allora ascoltami allora abbiamo bisogno del golem per favore davvero abbiamo tantissimo bisogno del golem perché non me lo stai dando ne abbiamo davvero un una necessità assurda te lo chiedo per favore dammi sto golem no l'orco della rovina va bene è un curatore ma non è quello che cerco golem no no decisamente no riproviamo adesso perché dai succube no cavolo dai niente forza abbiamo già speso metà delle gemme ancora non abbiamo trovato nel golem né barba bianca nell'ultima rolla non nell'ultima forse nella penultima comunque in una delle ultime rollate ho trovato ben tre barba bianca e qui non ne trovo neanche uno dai forza eh sì ho l'xbox connessa si è sentito forza sì 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 vai sì golem porca puttana vai oh sì cazzo wow sì vai cazzo golem ok ok ora fermi fermi tutti perché ora si cercano i talenti e davvero se trovo un rigenerazione 5 sono felice sono davvero felice per te perché il gesto che hai compiuto del risparmiare così tanto e dare a me in mano questa possibilità è qualcosa che davvero davvero apprezzo dal profondo del cuore quindi prima utilizziamo le casse magari abbiamo culo guardiamo il fuoco 5 su 5 allora il volo non è il talento proprio più adatto ops potrò abbottare dal telefono vediamo se hai qualche eroe a cui possiamo darlo Aries no 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 direi sì lo diamo alla signorina e poi andiamo su Aries e troviamo un bel rigenerazione 5 per lui no ho detto questo sì scottatura 5 che fezza vediamo questa qualche eroe che ha qualche talento 1 avevo visto prima una succube con un talento 1 questa qui rianimazione 1 no sostituiamo non abbiamo più casse giusto ok ora cominciamo a cambiare vediamo un po' uno che è un talento 5 che porti bene Mietitore colpo pesante 2 no non è ciò che volevo basta connettervi persone rigenerazione 1 no però no vabbè troviamo di meglio sicuramente scottatura colpo pesante scottatura perché? una non basta cioè abbiamo trovato già quella 5 su 5 bah rianimazione beh rianimazione gliela possiamo già dare a quel piccoletto perché anche se 1 è già più buona di quello che ha quindi sostituiamo però avrei bisogno di 1 spiegare meglio di una cosa di una rianimazione così sale prima dispersione 3 dispersione 3 lo diamo ad un tuo eroe con un talento 1 vediamo un po' eeeh quanti blu hai troppi troppi te ne devi tenere 6 di eroe blu questi due hanno tutti e due rigenerazione 2 spargimento 5 su ok va bene sono felice cioè è un po' sprecato però magari ti è nato così dubito che tu gliela abbia dato di tua spontanea volontà magari qualcuno ti ha puntato una pistola alla testa e ti ha detto daglielo e tu sei stato costretto quindi hai dovuto darglielo stavo cercando qualcuno con un talento 2 ma 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 spargimento 2 sostituiamo cambiamo di nuovo bastione 1 no decisamente no rigenerazione 1 no spiegare 1 già ce l'hai colpa pesante 2 no dio della guerra 1 no colpa pesante 1 ragazzi 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 cercando con le gemme non abbiamo ancora trovato zitto treno non abbiamo ancora trovato un talento 5 su 5 rigenerazione 2 no se fosse stato un 5 sarei stato molto 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 più contento guardiamo il fuoco 4 che palle mi ha dato il 5 guarda 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 vediamo qui così fai dei punti in più dai fodero della spada 3 lo diamo a qualcuno con un talento 1 forza no nope con donna 4 questo qui è già un buon talento da tank e volendo glielo posso mettere però con 8500 gemme cioè preferirei trovare qualcosa di meglio ma non posso averne la certezza quindi sì nell'incertezza glielo diamo perché con 7000 gemme abbiamo trovato solo questo come talento alto e vorrei trovare qualcosa di meglio di uno spargimento 1 anche torniamo su un eroe con un talento 5 vediamo un po' chi c'è ok rianimazione 5 vediamo un po' no perché di solito i talenti 5 portano bene fanno uscire altri talenti 5 non è questo il caso decisamente non è questo il caso no uh ecco colpo pesante 5 che non andrà ovviamente al golem vediamo piuttosto a te per il vostro questo campione sarà ottimo davvero davvero ottimo e continuare a rollare su quel campione vediamo che cosa esce che cosa esce rigenerazione 3 ok ok comincia ad essere un numero decente a chi lo diamo? cupido che cosa ha? spiegare 4 spiegare 4 e zucca rigenerazione 4 mi permetto di sostituirti il talento poiché rigenerazione 3 su cupido è molto meglio di spiegare 4 quindi ti chiedo scusa se non è ciò che vuoi ma fidati spiegare ormai non serve più di tanto con le spazzate quindi meglio un bel rigenerazione soprattutto su cupido furia se lo troviamo 5 lo diamo alla zucca senza proprio oh ok ok rigenerazione 4 rigenerazione 4 lo dobbiamo dare per forza ad Alice quindi via pelle coriacea rigenerazione 4 abbiamo ancora 4900 gemme ok se troviamo un rigenerazione 5 è ancora meglio condanna 4 ok cominciano ad uscire talenti buoni quindi vediamo di non perdere il momento dio del tuo nonno vediamo un po' che cazzo sto cantando e 2 ok sostituisci torniamo su quel campione che sta portando bene era no non era questo era questo dio della guerra 2 fosse stato 5 subito su Dracula decisi colpo mortale 1 accelerazione 2 dispersione 1 dai colpo pesante 4 lo diamo a a a a a a te ok ti facciamo un upgrade torniamo indietro torniamo no 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 ok rimangono davvero poche rollate ancora 2 rollate ok 3 volendo dai no dai ok l'ultima rollata perché ci ha chiesto di tenergli delle gemme e no non è arrivato neanche come ultimo talento un buon talento quindi smettetela di connettervi allora io da questo lato xbox da quel lato quel lato la porta da quel lato di dietro il treno da quel lato la superstrada quindi devo cercare un momento buono per registrare altrimenti mi trovo in mezzo alle cose e come stavo cercando di dire non siamo purtroppo riusciti a trovare un talento ahimè abbastanza buono io vorrei vedere quanti cosi hai quanti punti hai ma non è nascosto ah no è qui sotto il prestigio wow 4914 allora potrai evolvere la zucca hai Ares con rigenerazione 4 quindi nel pvp sei molto 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 più avvantaggiato adesso hai come si chiama cupido con rigenerazione 3 quindi skilla la zucca subito dopo skilla cupido che fa riskillare la zucca quindi davvero ottimo e che altro hai il golem che va potenziato assolutamente lo devi portare su vediamo quanti frammenti hai scusa se mi faccio i fatti tuoi però davvero è fantastico cioè questo penso sia per ora il mio video preferito del 2016 quindi grazie davvero mille della possibilità ah quanti ne posso comprare ok 26.732 frammenti direi sì approssimativamente quello è il numero 26.700 frammenti quindi potrei alzarlo già a 7 se non sbaglio sì a 7 forse a 6 e wow davvero per questo video è tutto ragazzi io mi sono divertito un sacco è stato fantastico e wow cioè questi gesti ah no non è tutto aspettate c'è l'evento c'è l'evento per artica se trovo il pulsante perché c'è la mia faccia a coprire ok altri eventi c'è scopri il tesoro ragazzi ragazzi possiamo trovare artica per questo ragazzo se lo trovo se lo trovo davvero non lo so zero estrazioni questo purtroppo ci mette un po' ad aggiornarsi il server quindi non posso stare ad aspettare 10 15 20 ore cioè dobbiamo che ore sono le 8 dobbiamo sbrigarci altrimenti a mezzanotte penso si resetti il tutto quindi controllerò periodicamente e appena ci sarà la possibilità farò anche questo evento alla ricerca di artica intanto ragazzi non so se questo qui sarà una chiusura del video perché non riuscirò a prendere artica o comunque a fare quell'evento a causa dei bug del server che rallentano tutto oppure se riuscirò a continuarlo intanto io vi saluto vi invito a lasciare un like e un commento e ragazzi davvero grazie mille grazie mille per sostenermi ogni giorno e per continuare a seguirmi è qualcosa di davvero molto importante grazie grazie di cuore davvero alla prossima